buonasera a tutti e grazie mille per eh aver partecipato per partecipare a questo nuovo appuntamento di Liberi Libri che eh conferma un po' la tradizione o comunque l'impostazione di ehm esaminare di prendere in esame dei libri non strettamente non esclusivamente disciplinari diciamo dove le discipline si incrociano e questo mi pare che sia un caso esemplare da questo punto di vista perché questa sera eh parliamo di un eh di un testo dove si incrocia diciamo così si incrociano le culture eh dell'architettura con le culture della storia della lingua della linguistica e di tutto quanto ha a che vedere con appunto come dice il sottotitolo del volume lingue lingua stile e testo. Il volume tra le righe dell'architettura pubblicato da Mimesis è stato curato da eh Alessandro Armando, Giovanni Durbiano, Costanza Lucarini, Raffaella Scarpa. Raffaella Scarpa purtroppo non riesce ad esserci oggi perché ha avuto un problema familiare abbastanza serio eh ma insomma vi vi saluta manda eh attraverso di noi tutti i saluti possibili e abbiamo invece i tre curatori appunto Alessandro Armando, Giovanni Durbiano e Costanza Lucarini. Eh direi che facciamo mh presentare così che chi sventuratamente non avesse letto il libro eh che è un libro dimenticavo di dire un libro composto da più saggi cioè ci sono eh all'interno saggi diversi uno anche persino mio quindi la qualità è altalenante diciamo così eh ci sono più saggi all'interno e un volume collettivo eh direi che eh loro tre potrebbero eh brevissimamente descrivercelo perché poi diamo daremo la parola a quelli che abbiamo individuato come discussant eh della 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 serata che sono Beatrice Dema e Gabriele Neri che dopo si raccomanderanno qui e vi presenterò ehm Costanza eh Costanza eh Lucarini, Giovanni Durbiano e eh Alessandro Armando credo che abbiano eh poco bisogno di presentazioni per la verità perché sono tutti interni al Politecnico anche se Costanza viene da fuori però è dottoranda eh in Architettura Storia e Progetto al Politecnico mentre Giovanni Durbiano e eh Alessandro Armando sono professori di composizione architettonica eh all'interno Raffaella Scarpa è eh professoressa di ehm esattamente la materia non la conosco ma linguistica ok linguistica italiana per questo giusto per bilanciare e e esattamente riequilibrare i pesi disciplinari. Chi di voi vuole prendere la parola per primo? Fate i cavalieri e comincia Costanza Lucarini. Allora grazie Sergio per l'introduzione e la presentazione per averci ospitato qui nella tua cornice di Liberi Libri. Grazie ai nostri discussants Beatrice Dema e ehm Gabriele Neri eh grazie a voi che siete con noi qui in sala e che ci sta seguendo streaming eh online su Zoom. Io sono Costanza Lucarini come ha introdotto Sergio. eh ma eh provengo dall'Università di Torino e sono laureata in culture moderne comparate e insieme a Raffaella Scarpa, Giovanni Durbiano e Alessandro Armando eh mi sono occupata della curatera di questo volume miscellaneo tra le righe dell'architettura, lingua, stile e testo. Due cenni a proposito della storia editoriale di questo volume che è stato pubblicato grazie al cofinanziamento del dipartimento di studi umanistici dell'Università di Torino e del dipartimento di architettura e design del Politecnico di Torino consta di un comitato scientifico e nasce da una call for papers che si poneva come obiettivo quello di sondare la possibilità di interazione e dialogo tra saperi linguistico e architettonico e in cui si delineavano due principali linee tematiche. Una prevedeva lo sviluppo di questioni legate a stilistica e storia della lingua dell'architettura e l'altra a performatività del progetto, testualità e retorica. Alla call hanno risposto sia studiosi di storia della lingua e di storia dell'architettura sia di linguistica italiana e di progettazione architettonica. Questo ci ha consentito di raccogliere un ventaglio di contributi e di punti di vista la cui eterogeneità costituisce di per sé un interessante esito per una riflessione sul perimetro di un campo di ricerca entro cui collocare linguistica e architettura. Il volume raccoglie 16 saggi la cui disposizione ad eccezione dei primi quattro che sono stati collocati all'inizio per il loro carattere maggiormente trasversale alla linea temporale segue un criterio cronologico e anche in questo caso l'esito ci permette di osservare quali epoche siano state fin qui maggiormente oggetto di approfondimento, il rinascimento, il novecento, e quali invece siano di fatto o meno studiate, sette e ottocento in anni massimo. Il taglio adottato dagli autrici e dell'autore inoltre si presta a individuare alcuni raggruppamenti tra i saggi di cui ora vi illustro in sintesi un po' i contenuti. Alcuni hanno un'impostazione prevalentemente lessicografica o di storia della lingua. Mi riferisco ai contributi di Marco Biffi il quale propone una riflessione sui suoi 25 anni di studio sull'essico architettonico, ripercorrendone prevalente, ripercorrendone in particolare l'evoluzione e il consolidamento tra quattro e cinquecento. Diana Secchiera, la quale si sofferma sui volgari italiani negli scritti di architettura dal Medioevo al Rinascimento e sulle prime traduzioni del re del reo medificatoria di Leon Battista Alberti. Di Emanuele Ventura, che indaga gli italianismi legati all'ambito dell'architettura civile e militare nei grandi trattati portoghesi tra cinque e seicento e infine a quello della sottoscritta che offre un esempio delle dinamiche di divulgazione scientifica nel cinquecento e del passaggio del lessico tecnico architettonico alla lingua comune affrontando il caso di Francesco Sansovino e del suo testo più noto Venezia, città nobilissima e singolare. Altri saggi scandaliano l'aspetto semantico e di migrazione dei significati. Penso al contributo di Sergio Pace, il quale analizza il portato culturale e l'aspetto connotativo di alcune coppie di termini nel dibattito architettonico dell'Italia del lungo ottocento, ad esempio imitazione, invenzione, ornamento, decoro. Quella di Rosa Piro, la quale indaga l'impiego di metafore architettoniche nei testi dei papi, come ad esempio l'edificio di Dio o Cristo architetto, e a quello di Federico Cesareo che riflette sul ruolo della lingua per la produzione dei valori nella disciplina architettonica. Alcuni saggi si focalizzano sullo stile di scrittura di un singolo architetto, tra questi i saggi di Roberto Secchi, il quale si sofferma sull'interazione tra disegno e parola nelle tavole di La dissoluzione della città di Bruno Taut, a quello di Beatrice Deema che è qui con noi oggi, la quale offre un esempio del rapporto tra lingua e architettura nell'Italia degli anni 60 e 70 attraverso i testi di Giancarlo De Carlo, a quello di Chiara Dalmasso che delinea un glossario linguistico concettuale di Roberto Gabetti, studioso, e infine a quello di Serenella Baggio che approfondisce l'uso della lingua di Aldo Rossi, istituendo un confronto tra due dei suoi scritti più noti, l'architettura della città e autobiografia scientifica. Altri ancora guardano con attenzione alla dimensione testuale e peritestuale. Mi riferisco ai contributi di Riccardo Palma, il quale si sofferma sul testo di programma come spazio soglia che trasforma le parole in figure di progetto, di Francesca Favaro, la quale indaga la funzione documentale del testo di progetto tra scambio burocratico e scambio simbolico, a partire dal caso del Piemonte Sabaudo di Metà Settecento, e a quello di Gregorio Astengo e Andrea Dutto, i quali propongono una riflessione sul ruolo giocato dall'apparato delle note in alcuni testi di architettura. C'è chi poi, come Matteo Mazzone, ci presenta un'indagine dal taglio filologico su una nuova traduzione vitruviana di un manoscritto della Biblioteca Pastolica Vaticana, e infine chi, come Tommaso Listo e Silvio Balzan, col proprio saggio cerca di istituire una correlazione tra processi istruttivi e costruttivi, progettuali e linguistici. Dopo questa breve panoramica, e prima di passare la parola agli altri curatori, concludo con un aneddoto che introduce le riflessioni che ci offriranno rispetto ai presupposti, o meglio, alle precondizioni da cui prendere avvio per l'individuazione di un terreno di lavoro comune. Fin qui vi ho detto della genesi editoriale di questo volume, ma non della sua ideazione, che ha avuto luogo in un caldo pomeriggio di giugno sotto un pergolato in Via delle Rosine, a Torino. Perché dico questo? Per evidenziare il fatto che si tratta di un progetto che nasce dalla condivisione di uno spazio e da uno spazio condiviso, di dialogo e di scambio tra saperi disciplinari. Proprio pochi giorni fa, in occasione della presentazione di un numero monografico della rivista Atti e Rassegna Tecnica su cultura tecnica e cultura umanistica, si è parlato dell'importanza di costruire piattaforme di lavoro comune per una nuova cartografia non gerarchica, orizomatica, come direbbe Deleuze, dei saperi. Una piattaforma cioè che non si ferma all'accostamento di quest'ultimi, ma che indaga le loro stesse posture, esplicitandone le precondizioni e preparandoli così a un reciproco attraversamento. Tra le righe dell'architettura, anche se ancora non raggiunge pienamente un connubio transdisciplinare, di questo però ci diranno di più i nostri discussants, nasce proprio da questa intenzione. È un'intenzione che si traduce anche con la mia presenza qui al dottorato di architettura storia e progetto del Politecnico e che oggi siamo lieti di discutere insieme a voi. Grazie. Grazie mille Costanza. Grazie per la presentazione e grazie per aver contribuito a una fatica che come si immagina anche soltanto dall'indice non deve essere stata lieve nonostante la bellezza del pergolato in via delle rosine dove dove è nata. Signori del pergolato. Inizio io a fare un brevissimo commento perché poi invece sarebbe bello sentire i nostri discussant. Buonasera e grazie a Costanza di questa introduzione completa che ci toglie anche l'onere di dover dare un quadro completo. Del resto Costanza è stata la diciamo la vera anima di questa curatela quindi dobbiamo a lei soprattutto il merito di questo di questo volume e della capacità di tenere insieme tutti questi pezzi perché di pezzi si trattava soprattutto all'inizio dentro certo dei delle cornici di discussione che avevano diciamo avuto inizio molto prima perché noi con Raffaella Scarpa avevamo già tentato negli anni di avere degli scambi e degli insomma dei confronti nel merito dei testi degli architetti nei nostri corsi di teoria con Giovanni l'avevamo già ospitata e lei ci aveva già aiutato a leggere la lingua degli architetti con effetti sorprendenti e in virtù dei quali noi volevamo provare a fare un'operazione un po' più articolata visto che Costanza aveva avuto il coraggio di farsi prendere da questo dottorato e allora abbiamo colto l'occasione per per fare questo progetto. Mi colpisce e mi piace molto la 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 categorizzazione che adesso Costanza ci ha proposto e che se farete caso e se leggerete l'introduzione vi renderete conto che è diversa da quella tripartizione che trovate nell'introduzione al volume. Una tripartizione che era emersa da varie discussioni e aveva dato vita anche a dei tentativi di diagramma che è un nostro vecchio vizio perché abbiamo fatto dei triedri delle cose strane in cui cercavamo di collocare con dei pallini tutti questi saggi che sono appunto molto molto diversificati e volevamo capire se erano in conflitto tra loro erano non c'entravano niente erano complementari cioè trovare delle letture di diciamo di relazione che in realtà sono l'obiettivo è lasciato al lettore poi alla fine come capito però diciamo se voi leggete l'introduzione vedete vedete che le tre linee che vengono di lettura che vengono proposte sono diverse perché una veniva chiamata una linea ermeneutica addirittura una linea pragmatica e una linea potrei dire io perché lì non è detto in questi termini epistemica o epistemologica nel senso che un altro tipo di classificazione di questi lavori ehm faceva i conti con ehm con la performatività dei testi e di tutte queste tre linea nel senso che la eh c'era una ci sono dei testi che si vuol dire mettono in chiaro ehm cioè che hanno come obiettivo quello di ehm definire il rapporto tra spiegazione e comprensione o tra espressione e contenuto se vogliamo quindi che sono evidentemente votati a determinare quanto la chiarezza di un testo o di un'opera possa ehm possa essere controllata o possa essere determinata attraverso un lavoro di progetto progetto di lingua e progetto di architettura eh fino a la questione della consapevolezza di quello che si fa eh ce n'è un'altra che invece appunto noi dicevamo linea pragmatica che guarda la lingua in azione nello scambio nello scambio progettuale nella professione ma anche nei negli oggetti che la professione dell'architetto il mestiere potremmo dire per non essere troppo eh restrittivi eh produce eh e quindi in che modo questa lingua funziona che efficacia ha che mh e dalla lingua al testo poi ci sono tanti passaggi però quindi invece che avere a che fare con l'espressione del contenuto potremmo dire che cerca di guardare l'effetto e gli oggetti quasi la tecnologia appunto intellettuale che la lingua e l'architettura eh mettono in in campo e poi la terza linea invece appunto forse andava più e si legge in alcuni testi in modo chiaro in una direzione di diciamo epistemologica ma forse di comparazione tra discipline cercando di cogliere quanto di una supposta struttura o forma potesse essere assunta in ambiti diversi per omologie o per analogie o per altri tipi di di relazione appunto di natura strutturale e quindi ovviamente in questo poi l'architettura e eh la linguistica si sono si sono confrontati eh per decenni anche questa è un'altra cosa di cui si si dice all'inizio eh per cui capire se c'è una una condizione diciamo latente eh o quasi trascendentale che mette in relazione la dimensione della lingua nella dimensione dell'architettura che forse è il filone più 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 consolidato in ambito teorico almeno nella prospettiva degli architetti eh perché questi queste tre linee perché queste tre linee sono l'inizio di una possibile eh un possibile orientamento della ricerca eh ecco poteva essere la prima il primo passo ehm azzardato incompleto nella definizione di relazioni interdisciplinari e forse anche transdisciplinari dove queste linee non sono complementari non sono dei modi diversi di affrontare la questione che stanno pacificamente l'una accanto all'altra ma probabilmente si pestano i piedi rivendicano delle eh come dire degli spazi di sovranità di priorità rispetto agli altri e proprio in questi punti in questi spazi di tensione di sovrapposizione si potrebbe tentare di eh definire meglio in da qui in avanti speriamo anche da questo libro in avanti le relazioni e le dialetti che potremmo dire addirittura tra questi tra questi modi perché ehm la questione diciamo di un di un progetto di architettura che vede la lingua in cui scritto i testi con cui in cui si articola e li distingue nella dimensione appunto del progetto rispetto a altre dimensioni come quella dell'opera dell'architettura in senso più esteso o più ehm che costituisce la 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 realtà tangibile ehm degli edifici dello spazio materiale beh questo rapporto è è complicato è un rapporto non trasparente e e quindi sottolinearne la la differenza l'intermediazione la 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 complicazione forse crescente anche se queste letture diciamo incrementali sono sono sempre difficili eh è è compito nostro questo è un compito di descrizione ma anche un compito di rischio di reinvenzione del progetto ecco questo è quello che mi viene da dire da per me quello che costituisce per me come architetto un tentativo del genere è la prospettiva che ha grazie 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 sì provo come capita spesso a a ripartire delle ultime parole che ha detto Alessandro per aggiungere una dimensione anche forse politica a a questa a queste ultime considerazioni sul rendere meno opache più trasparenti certe relazioni tra lingua e architettura allora è evidente che gli architetti scrivono molto scrivono tantissimo sia gli architetti diciamo i professionisti riflessivi quelli da cui siamo partiti con Raffaella qualche anno fa in un corso di di teoria del progetto quando le avevamo chiesto come ricordiamo proprio nella nella nell'introduzione nella premessa di analizzare alcune lingue autoriali per per capire delle corrispondenze esercizio che era venuto benissimo perché Raffaella è stata molto brava a dai pochi dalle poche tracce che aveva a ricostruire diciamo delle dimensioni culturali che noi sembravano che noi avevamo compreso attraverso altri strumenti ad esempio quello del disegno o dei contenuti dei testi però scrivono anche moltissimo gli architetti i professionisti non riflessivi cioè quelli che si guadagnano come peraltro noi la pagnotta sfornando progetti per qualcuno che che li paga e non per entrare nei libri di storia scrivono tantissimi testi scrivono mail scrivono relazioni scrivono lettere di 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 supplica per essere pagati scrivono invettive contro l'impresa che non realizza come loro avevano detto che doveva realizzare una certa cosa insomma e tutte queste scritture quelle diciamo di professionisti riflessivi e quelli dei professionisti non riflessivi sono un grande corpus che può essere affrontato e che voglio dire non può essere affrontato in una volta sola costanza lo sa bene perché si è posto al problema nella tesi di dottorato di quale dei tantissime fenomenologie della scrittura potesse lei diciamo cominciare a osservare a studiare il nostro obiettivo l'obiettivo del gruppo di ricerca di cui faccio parte era abbastanza esplicitamente secondo me quello di affiancare a quella dimensione ermeneutica anche una dimensione pragmatica nel senso c'è una lunga tradizione di riflessione sulla scrittura della sulla riflessione sulla scrittura dell'architettura e dell'architettura che ha fatto esplodere come come un oggetto cosmico questi testi collegando mille fili carlo olmo che ne è un insomma una figura importante di questo tipo di uso dello dello studio della lingua nella prospettiva che avevamo un po preso noi c'era una volontà anche più come anche ricordato sostanza di vedere la lingua in azione nella capacità di produrre valore ma valore in corso d'opera valore verso un effetto e questo ha creato anche inizialmente e mi auguro che continui a crearlo delle discussioni tra archiprogettisti e linguisti su è possibile discussioni che hanno un rilievo diciamo di un qualche interesse su quanto è strumentale la lingua a un qualche effetto o quanto è l'effetto e la lingua stessa e il suo valore ora questo è rimasto un dialogo aperto che secondo me anche i testi non tra l'altro non si possono fare divisioni tra progettisti storici e linguisti perché trasversale questi questi schieramenti di fatto noi abbiamo io alessandro per lo meno abbiamo incarnato un po questa ma anche un po come dire per una posa strumentale a una a uno scambio a una dialettica questa posa di vedere vedere la lingua nella sua capacità di contribuire insieme ad altri strumenti come il disegno a la costruzione di del valore progressivo di un di un processo che porta a un qualche effetto e quindi il libro è funzionale alla costruzione di una di una di una connessione tra comunità scientifiche diverse oggi in parte lo 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 stiamo lo stiamo celebrando in questo momento dove sicuramente quello che abbiamo come comunità abbiamo imparato dai linguisti è uno statuto fortissimo nel senso di 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 muoversi su categorie strumenti e statuti scientifici che hanno delle regole molto forti rispetto a quelle dei progettisti che sono molto più abborracciate ecco allora cominciare a mettersi d'accordo su alcune questioni la quarta di copertina del libro che poi è anche ripresa nella locandina pone alcuni problemi il corpus la tipologia di scrittura linguaggio lingua specie settoriale o lingua specialistica insomma sono tutte questioni su cui costanza ha preso posizioni mi ricordo un giorno in una durante una conferenza di qualcuno ha detto no ma forse non è così e cos'ha e ci si è aperto anche un mondo per per chi invece si è mosso in modo più a tentativi allora chiudo con una considerazione a cosa serve tutto questo e per riprendere anche la questione della trasparenza che poneva alessandro a me sembra che porre intenzione o perlomeno a far lavorare una comunità due comunità che si incrociano serva dal 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 nostro dalla mia prospettiva sicuramente a comprendere meglio come funziona il sistema della produzione dello spazio è un sistema che sta cambiando cambiando moltissimo in questi anni prima di tutto non si tratta più di produzione ma di trasformazione dello spazio il sistema che una volta si chiamava il ciclo edilizio e che era inteso come una macchina perfetta che funzionava nel trasformare prati verdi in edifici oggi deve prendere in considerazione istanze completamente diverse da quelle che prendeva in considerazione pochi anni fa mette in gerarchia quelle istanze secondo categorie valori di nuovo completamente diversi pensiamo all'ambiente soltanto l'influenza del clima o o burocraticamente dei criteri ambientali minimi che stanno attraversando tutte le pratiche professionali oggi impegnate in italia e pensiamo a come i tempi dell'istituzionalizzazione di un progetto che prevedono procedure molto più articolate e complesse in tutto questo la scrittura e il disegno e il disegno si per proprio per essere per essere molto schematici si ridistribuiscono i ruoli davvero si scrive molto di più si scrive per legittimare un disegno si disegna per legittimare una scrittura e questa e queste azioni prevedono una prevedono necessitano di una nuova comprensione delle pratiche progettuali in cui di nuovo disegno e testo si scambiano i ruoli questo secondo me è fondamentale avere una certa comprensione di questo fenomeno perché ci permette di usare gli strumenti che diciamo che nascono da questo incrocio per comprendere la realtà professionale della pratica e magari la speranza ovviamente quella di comprenderla e modificarla renderla più efficace renderla più adeguata alle situazioni che il nostro tempo richiede per cui eh anche questo librone che però voglio dire non non ha le pretese di essere un grande libro ma di essere un contributo alla costruzione di costo di questa comunità ha come sfondo questa trasformazione eh del diciamo del del sistema di produzione dello spazio grazie 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 a tutti i curatori grazie anche a Raffaella che che non è che non è qui e che però eh tutti insieme ci danno la possibilità di riflettere su eh questi temi alcuni di questi temi e su alcuni di questi eh temi io credo che davvero il libro muova e lo posso dire come dire essendo estraneo alla concezione non ho partecipato ovviamente eh né alla alla curatela eh credo che davvero metta in luce io penso almeno due temi fortissimi sui quali non soltanto questo sarà un punto di passaggio indispensabile nei nei prossimi anni ma sui quali mi auguro che lo stesso gruppo di ricerca continui a lavorare eh provo provo a dirlo da un lato una cosa che riguarda strettamente il libro e che mi fa grande piacere in quanto storico dell'architettura questo libro come pochi altri recenti però poi ce ne sono molti che ho testimonio provenendo da dall'incontro di due eh discipline di due mondi diciamo così neanche restringibili in disciplini ma di due mondi eh quelle delle culture del progetto e quelle delle culture della lingua in realtà dimostrano e questo mi fa molto piacere visto il mestiere che faccio dimostrano l'inevitabilità dell'oggetto storico non tanto del metodo storico ma dell'oggetto storico tutti i saggi qui quasi tutti i saggi però direi praticamente tutti partono da un oggetto storico magari un oggetto storico molto recente eh per carità ma sappiamo benissimo e non ci che l'idea di distanza storica è un'invenzione assolutamente per 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 pedestre fatta da chi non sa fare storico non esiste nessuna distanza storica basta basta fare storie e questa è una cosa che mi fa molto molto piacere eh l'altra parte che mi fa molto piacere questo provavo a dirla appunto non avendo partecipato e quindi non sapendo bene dove andava a finire questo libro provavo a dirla anche nelle prime nella prima pagina del eh del libro del libro del mio intervento eh provavo a richiamare uno uno dei testi che per me è stato fondamentale la formazione che è quello di di Adrian Forti su su parole edifici dove a me pare che in maniera chiarissima dimostri e loro continuano a dimostrarlo eh in modo in modo ineccepibile persin di più ma capisco che da Giovanni e quindi da un architetto non riesca a venire una una abbiura completa però dimostri in maniera assolutamente perfetta quanto testo e disegno non soltanto sono complementari ma probabilmente eh eh sono anche gerarchicamente ordinati io da sempre penso e credo di avere eh come dire si si possono dimostrare le cose che la dico in termini banali un testo senza disegni funziona può funzionare laddove un disegno senza testi non funziona assolutamente non 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 dice assolutamente nulla insomma non o dice una serie di cose che eh hanno un grado di o astrazione o imprecisione o vaghezza che la mente umana proprio abituata al linguaggio verbale non riesce spesso a cogliere tanto è vero che appunto come dicevano loro eh i disegni sono accompagnati da relazioni mail lettere insulti eh cose dette a voce tutta una serie di cose che non fanno altro che eh raccontare il disegno che di per sé non eh non varrebbe io cito sempre lo stesso esempio abbiamo dai vari archivi qua in 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 biblioteca abbiamo l'archivio di Sergio Utter che è un bellissimo archivio di un professionista di tutto rispetto e di grande rilievo nella Torino del secondo dopo guerra che ci è arrivato intenzionalmente solo di disegni ho provato a fare anche soltanto un paio di tesi di laurea sono del tutto impossibili non si riesce a capire nemmeno chi sia il committente in alcuni casi di quelle case e anche quando si capisce chi è il committente delle case il disegno è del tutto insufficiente questo con buona pace dei nostri colleghi stimatissimi che passano il tempo a a a pensare a forme di rappresentazione grafica le forme di rappresentazione grafica non soltanto a non soltanto appartengono al ai codici dell'architetto da tempi molto recenti eh non è che Vitruvio passasse il tempo a riempire taccuini di disegni ovviamente insomma non non almeno non è data traccia da questo punto di vista che è un mio pallino eh come dire contro il disegno se mai scrivessi un pamphlet eh da questo punto di vista credo che questo libro dica tantissimo e lo dice con le armi della storia il che mi fa molto piacere credo che come dire quindi non a caso non a caso nel senso che non è accaduto per un caso del destino ma perché così dovevano convergere le stelle abbiamo chiamato in effetti uno storico dell'architettura e una eh è una esperta una studiosa di lingua e non un progettista a discutere il il libro perché in realtà è è così che va discusso questo libro e ne eh rileva questa questa scelta ne rileva anche la la grandezza ne rileva anche l'importanza per cui a questo punto fate un cambio di di sedute direi e chiamiamo Beatrice Dema e Gabriele Neri Beatrice è ehm dottoressa eh di ricerca in lettere ricercatrice presso l'associazione Remedia lingua medicina in malattia e si occupa di linguistica clinica non solo psichiatrica credo per cui ehm andrebbe benissimo qui dentro insomma in queste aule credo che ce ne sia sempre bisogno naturalmente ehm mentre Gabriele Neri è un nostro recentissimo ottimo meraviglioso acquisto perché è ricercatore nel DAD nel dipartimento eh eh cui apparteniamo anche in gran parte di noi qui appartiene appartiene la gran parte di noi e ehm si si è occupato per lo più di architettura contemporanea architettura del novecento in particolare dei rapporti eh di altre discipline come dire che hanno frequenti scambi spesso anche senza saperlo come architettura e ingegneria non so chi di voi due vuole cominciare siamo con la Lieri e quindi Beatrice va bene intanto buonasera e grazie grazie a tutti e a tutte eh dunque allora ehm insomma ho apprezzato la la il commento di di Alessandro Armando sul fatto che già eh all'interno del gruppo dei curatori già fossero due le letture diverse e io quindi porterò una lettura ancora diversa ovviamente del del libro come immagino farà come farà Gabriele che però secondo me in qualche modo ehm conversa con quelle delle dei curatori dunque ehm tra le righe dell'architettura lingua stile testo è sicuramente uno un'operazione importante perché a tutti gli effetti cerca di porre le basi di un ambito di studi interdisciplinare che però è consapevolmente interdisciplinare questo non è un aspetto da poco nel senso che un un ambito di studi voluto è ricercato da tutte le discipline coinvolte che mh sono anzitutto come insomma è già stato detto più volte linguistica in senso molto ampio quindi dalla filologia alla storia della lingua all'analisi linguistica più specifica lessicografica a secondo me dalla mia prospettiva appunto del linguista soprattutto per quanto riguarda l'architettura eh storia e teoria dell'architettura mi sembra che siano poi gli aspetti disciplinari più coinvolti nel 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 libro eh diciamo che eh la natura di queste discipline rappresenta a mio parere già un elemento chiave per ricostruire l'operazione diciamo scientifica che si ricava dal volume ehm ma eh non soltanto non è non sufficiente ecco un altro elemento chiave per insomma entrare un po' eh nella nel vivo del del volume a mio parere è proprio l'oggetto di cui si occupa quindi eh la lingua dell'architettura a tutti gli effetti eh che è eh un oggetto speciale come dice Marco Wiffi nel suo saggio che mh in maniera molto intelligente i curatori hanno messo diciamo apertura del volume ehm serve molto di inquadrare diciamo l'operazione complessa a cui sono andati incontro appunto curatori e autori perché mh specifica subito come la lingua dell'architettura sia a tutti gli effetti appunto una lingua speciale perché è una lingua enciclopedica che quindi prende e vive dalla dall'inserimento, dall'incursione di tante altre lingue eh ma è anche un patrimonio comune di larghe fasce sociali e una lingua che è aperta alla cittadinanza eh è una lingua che è sempre un po' in bilico tra tecnica e umanismo e tra arte e produzione e come sottolinea eh Favaro nel suo saggio sugli elaborati progettuali appunto piemontesi del secondo settecentesco è anche una lingua che è in maniera molto complicata e non diciamo neutra eh influenzata da elementi burocratici, amministrativi, politici ed è ancora una lingua ipercomposta da tipologie tessuali molto diverse insomma è un oggetto complesso da maneggiare. Un oggetto complesso da maneggiare che però ehm mh dà l'occasione di quindi essere indagato da molte prospettive diverse. Quindi se da una parte abbiamo ehm discipline ehm diciamo diverse che se ne occupano e che cercano di dialogare fra loro e dall'altra parte abbiamo insomma un oggetto molto complesso ecco questi due aspetti mh servono per tracciare un po' il percorso del libro che ha a mio parere il pregio di aver non tanto portato fin da subito in luce degli strumenti comuni quanto più eh diciamo degli ambiti di ricerca condivisi eh che possano in qualche modo iniziare a caratterizzare un diciamo settore interdisciplinare di studi e eh appunto a proposito delle letture diverse a mio parere sono soprattutto tre eh queste linee di ricerca che sono presenti nel libro ma che in realtà poi eh possono essere veramente indicativi di una direzione di lavoro futura anche perché un elemento che colpisce subito eh parlo anch'io da autrice di uno degli dei saggi contenuti nel libro è che molti finiscono diciamo molti autori finiscono il loro contributo rilanciando delle ricerche future quindi in qualche modo già dando la la l'impressione la sensazione che questo libro sia soltanto un primo un primo assaggio di qualcosa che proseguirà ed effettivamente le linee di ricerca che si possono attracciare fanno questa operazione. Una prima diciamo eh linea di ricerca a mio parere riguarda soprattutto va soprattutto a studiare il rapporto tra lingua e architettura in funzione della riflessione teorica della disciplina architettonica cioè il ragionamento è su quanto ehm aspetti della lingua possano in qualche modo andare a testimoniare il passaggio teorico eh di un determinato autore o vedremo di un determinato periodo. Ehm appunto questo questa riflessione viene affrontata tendenzialmente con due approcci nel corso del volume e in generale quindi eh delineando la possibilità di utilizzare questi due approcci anche in futuro un primo approccio appunto squisitamente teorico per cui ci si interroga su quanto il confronto tra teoria linguistica e teoria architettonica possa portare allo sviluppo di una nuova idea di progetto architettonico quindi ehm emblematico in questo senso l'intervento di Serenella Baggio su Rossi dove parlando dell'architettura della città eh sottolina diciamo l'importanza di Rossi della conoscenza da parte di Rossi dello strutturalismo di De Sussur per poi costruire un'idea di progetto eh appunto un'idea proprio di nuova di architettura ehm o nel caso appunto dell'invece dell'intervento del saggio di Cesareo interessante anche comprensiamo la riflessione su come la lingua vada e anche qualcosa che diceva adesso eh Giovanni Durbiano a guidare il progetto architettonico nel suo farsi quindi ehm Cesareo nel suo diciamo nel suo intervento lo cito un attimo perché mi sembra di interesse concludo a un certo punto dicendo la lingua ehm si configura non solo come lo strumento che abilita il processo della progettazione che permette la transizione ma proprio come il dispositivo strategico capace di determinare il successo il fallimento dell'interazione di progetto che è quello che anche diceva adesso Sergio Pace attraverso la lingua si concretizza il passaggio della dimensione soggettiva quella intersoggettiva per giungere infine se il dispositivo narrativo è stato efficace o quello oggettivo quindi si va oltre diciamo l'aspetto soggettivo del del progettista si supera diciamo la relazione col committente con l'esterno per poi tornare a quello che è effettivamente il progetto questo dovrebbe essere eh secondo Cesareo comunque eh la funzione della lingua ecco quindi questo primo approccio squisitamente teorico al rapporto tra lingua e eh architettura poi ehm si eh diciamo si affianca a un approccio che invece va a ragionare sempre sul rapporto tra lingua e architettura in funzione di eh in qualche modo andare ad identificare la riflessione teorica eh della disciplina architettonica ma lo fa attraverso l'analisi linguistica e eh quello che viene fatto a tutti gli effetti da molti contributi una parte molto diciamo sostanziosa del libro ehm viene fatto appunto viene evidenziato il ruolo di alcuni dispositivi linguistici o di alcuni dispositivi testuali quindi di alcune tipologie di testo nella definizione di almeno due serie di elementi eh in primo luogo appunto nella eh viene sottolineato il ruolo di alcuni aspetti linguistici nella costruzione del pensiero del singolo architetto quindi ad esempio nel contributo quello appunto scritto da me su su De Carlo ma quello di Secchi su Bruno Taut in Chiara dal Masso su Gabetti e lì l'operazione è molto interessante perché quello che è solitamente il glossario per cui un glossario appunto dovrebbe in qualche modo identificare delle voci e ricostruirci la sfera semantica in realtà va molto oltre perché nel ricostruire la sfera semantica di quella determinata voce per Gabetti in realtà porta ad approfondire a eh diciamo seguire il processo teorico eh di Gabetti. Ehm oppure come dicevo può succedere che invece l'analisi linguistica debba andare a ehm eh evidenziare la la funzione di alcuni dispositivi testuali nella definizione diciamo di ehm un percorso teorico diciamo eh specifico che però viene la cui diciamo definizione viene accompagnata proprio da quella tipologia di testo ad esempio come appunto nel contributo Riccardo Palma sulla tipologia testuale diciamo del testo di programma ma secondo me molto di interesse il lavoro di dutto io separo un attimo i due autori perché secondo me il il saggio sulla nota che è contenuto eh nel nel volume eh e da trattare diciamo quasi mh eh come se fossero due saggi a sé appunto il lavoro di dutto sulla note sulla nota eh sulla funzione della nota di commento in alcuni autori soprattutto in autori come tafuri in progetto utopia quell'operazione della nota ha una funzione teorica fondamentale e di nuovo viene sottolineata. Poi eh diciamo che l'analisi linguistica serve anche a eh diciamo evidenziare ehm il ruolo di alcuni dispositivi linguistici nella costruzione di un codice storico teorico condiviso e poi anche nella possibilità di eh diciamo eh architetti poi successivi di aderire a questo codice ed è eh quello appunto come nel caso del saggio di Sergio Pace sulle dicotomie lessicali dove a tutti gli effetti eh ricito l'esempio che faceva Costanza a Luccarini su imitazione invenzione proprio il passaggio eh tra la scelta lessicale tra imitazione invenzione e poi in qualche modo la eh il ritirarsi della appunto dell'utilizzo del termine invenzione segnala un passaggio teorico molto importante che però è un passaggio condiviso non è del singolo architetto. Ehm e di nuovo ancora la stessa operazione viene fatta da Stengo sulle note diciamo sulle note testuali nel seicento sulla diciamo il ruolo quasi di polemiche di dibattito eh messi in campo ad editori e commentatori. Diciamo che quindi tutta questa prima grande ehm linea di ricerca sul rapporto tra lingua e architettura in funzione della riflessione teorica della disciplina architettonica a tutti gli effetti uno potrebbe dire beh la linguistica allora è molto strumentale cosa serve? Eh semplicemente fa riflettere sulla eh sulla teoria architettonica. In realtà poi c'è questo un'altra direttrice la seconda che insomma adesso vi mh descrivo brevemente che va un po' ad equilibrare questo rapporto perché sposta un po' il focus su un ambito di eh ricerca su un oggetto di ricerca che invece è molto caro alla linguistica e alla storia della lingua in particolare che è quella della costruzione di una lingua nazionale in cui il ruolo dell'architettura eh della lingua dell'architettura ha un'importanza diciamo chiave eh perché eh quello che emerge molto bene da alcuni contributi quelli di Secchiere Mazzone ma anche quelli di Costanza Lucarini ehm e proprio ehm quanto in un punto tra quattrocento e seicento si sia proprio andato incontro alla costruzione di una lingua nazionale dell'architettura e questo aspetto ha un'importanza chiave negli studi di storia della lingua diciamo chiamiamoli così proprio perché da una parte testimonia il passaggio del latino al volgare che uno dice vabbè è una cavolata no in realtà ha una funzione molto importante nel definire cos'è lingua italiana ma anche perché in qualche modo proprio in forza della natura enciclopedica della lingua dell'architettura di cui parlavo prima ehm testimonia quanto la lingua che si stava andando a creare eh fosse diciamo molto fluida molto aperta processi linguistici che andavano molto al di là insomma dalla anche nel caso dell'architettura alla eh alla sfera semantica della sola tecnica architettonica diciamola così ehm in questo diciamo i contributi che fanno eh riferimento secondo me a questa linea di ricerca eh come appunto quelli di eh di si e chiera e mazzone in realtà sono molto interessanti anche per un altro aspetto che eh Giovanni Durbiano eh sottolineava in passant prima cioè sul fatto di quanto la lingua dell'architettura sia in realtà ehm non non composta soltanto da quelli di grandi teorici ma in realtà eh esistono dei testi che esistevano già appunto eh nel nel quattrocento nel cinquecento eh considerati appunto spesso secondari come contratti note spese incartamenti che però in quel nella costruzione di una lingua nazionale dell'architettura quindi poi nella costruzione di una lingua nazionale ehm hanno avuto una funzione invece fondamentale perché hanno permesso di rendere le operazioni di di volgarizzazione di testi diciamo importantissimi come quelli vitruviani eh comprensibili da chi doveva lavorare veramente eh in bottega quindi la lingua della bottega diventa in realtà il grande eh bacino a cui poter da cui poter prendere per costruire la lingua dell'architettura ehm e eh diciamo il fatto questo diciamo continua passaggio tra lingua costruzione di una lingua italiana e parallelamente quindi intersecandosi lingua diciamo nazionale dell'architettura si vede bene nell'intervento nel saggio di Costanza Luccarini dove eh nell'ortografia di ehm appunto Francesco Sansuvino ehm eh in realtà eh ci sono sono molti termini diciamo architettonici se anche se non sono insomma descritti veramente nello specifico ma sono più ehm diciamo delineati per sfere semantiche eh e diciamo sempre questa operazione diciamo della eh costruzione di una lingua nazionale dell'architettura è molto interessante eh e apro un altro diciamo direzione di ricerca che nel libro c'è e mi ha colpito e ehm riguarda invece gli italianismi nelle lingue del dell'architettura diciamo eh straniere quindi in qualche modo ehm sottolineare quanto la la costruzione di una lingua architettura che fosse dell'architettura che fosse conosciuta da tutti eh in Italia avesse diciamo o costituito talmente tanto prestigio anche complici diciamo il prestigio in generale dell'Italia eh di quel periodo da essere poi impiegata come strumento eh appunto anche alle all'estero quindi diciamo se questa è la 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 linea diciamo di ricerca sul rapporto tra lingua architettura in chiave di riflessione teorica la lingua diciamo la linea di ricerca sulla lingua eh sulla costruzione di una lingua italiana eh cercano in qualche modo di andare a eh equilibrare il rapporto tra linguistica e architettura c'è poi una terza linea che invece supera un po' eh i confini di entrambi o comunque le pone un po' in discussione a mio parere ehm e eh riguarda quella diciamo mh quell'aspetto eh che caratterizza la lingua dell'architettura di cui dicevo inizialmente cioè proprio il fatto di essere aperto la cittadinanza ehm perché è una linea a mio parere di ricerca che insiste su quanto diciamo il rapporto tra lingua architettura debba essere essere osservato ehm insomma soprattutto eh in funzione diciamo della della significativa apertura che ha appunto la lingua dell'architettura all'uso di tutta la cittadinanza in quanto appunto comune territorio di costruzione delle idee dell'immaginario eh delle delle narrazioni ehm tutte diciamo quelle lingue che caratterizzano poi una comunità e questo a questo tratto si venne molto bene secondo me nel contributo nuovo di Costanza Lucarini dove a tutti l'effetto quello che noi andiamo a leggere che lei poi analizza e ehm quello che Francesco Sansovino ehm è un racconto tutti gli effetti della della dell'architettura come elemento identitario di una città ed è un aspetto secondo me molto interessante perché mescola diciamo elementi che un po' eh in qualche modo vanno oltre i confini disciplinari eh stretti e e diciamo lo stesso lo stesso linea di ricerca in maniera molto diversa si riscontra anche secondo me nel nel lavoro di Piro sulle metafore architettoniche nei discorsi dei papi degli ultimi settant'anni. Quindi diciamo che queste tre linee di ricerca che io ho ritrovato sono appunto lingua e teoria architettonica, architettura e lingua nazionale, lingua, architettura, immaginario e comune ehm appunto sono queste tre linee di ricerca che a mio parere ehm ehm lasciano diciamo buona strada davanti a sé per essere ulteriormente approfondite eh e dimostrano quanto mh l'ambito di studi che questo libro vuole delineare sia tutti gli effetti prolifico, importante ehm e allo stesso tempo quanto questo tentativo di essere appunto interdisciplinare mh sembra al momento almeno questa è l'impressione che ho ehm un buon insomma un buon tentativo eh perché è un'unione diciamo delle due discipline che permette l'apertura sì di nuovi settori di indagine ma permette anche reciprocamente di eh sviluppare anche delle linee interne della disciplina ehm in qualche modo quindi non spaventando troppo eh lo studioso che si deve mettere diciamo a eh dialogare magari con al discipline eh esterne alla all'abitudine diverse dall'abitudine eh perché altrimenti il rischio spesso di alcuni lavori interdisciplinari che una disciplina sia ancillare all'altro che poi a un certo punto non si sappia più che che tipo di disciplina si ha di fronte quali siano gli strumenti quali siano i codici teorici invece in questo modo eh un dialogo abbastanza eh fluido e mobile secondo me può essere una buona chiave questa almeno la mia lettura e grazie per la pazienza per ascoltarmi. Grazie mille Beatrice è davvero molto molto chiara e piena di spunti eh interessantissimi a partire da quest'ultimo che mi piace moltissimo sulla sulla difficoltà dell'interdisciplinarietà e quando si tengono i confini ben distinti poi si capisce meglio il il ruolo che giocano entrambi. Ehm Gabriele. Allora grazie. Grazie tanto per l'invito a a leggere questo quest'ottimo libro che è di grande interesse per me come per molti di voi che insomma di lavoro scrive e legge e cancella email soprattutto e poi per il resto cerca anche di guardare delle figure e ogni tanto a commentarle e scriverle insomma no a parte gli scherzi ehm però l'attività eh della scrittura legata invece alla pratica al mestiere all'orizzonte del del progettare all'orizzonte poi più più concreto almeno apparentemente del del costruire è sicuramente un terreno molto fertile e eh però paradossalmente questo il libro lo mette in evidenza anche eh come dire oscuro o non completamente esplorato da tutta una serie di prospettive che invece emergono dai dai diversi saggi per cui ho eh apprezzato in particolare questi come come già diceva Beatrice questa ehm come dire ogni saggio indica una potenziale eh diversa eterogenea chiave di lettura dell'argomento e molte altre poi se ne se ne aprirebbero eh a corredo ehm gli architetti credo che siano tra nella categoria tra i più spericolati e anche i più bravi o meno bravi a lanciarsi verso altre discipline eh siamo pieni siamo stati e siamo pieni di architetti filosofi di architetti che si occupano di semiotica di architetti che si occupano un po' di tutto cioè questa curiosità che a volte è magnifica e a volte invece è un po' alla dilettante allo sbaraglio sicuramente dell'affacciarsi verso verso altre discipline e cercare di di coglierne o anzi di entrarci più o meno a gamba tesa per per arricchire la propria eh professione al proprio punto di vista e invece qui c'è un tentativo secondo me ulteriore in questo libro che è proprio quello di eh confrontarsi con un un'altra disciplina innanzitutto quindi con anche studiosi e come qui di fianco a me di altre eh discipline di altre provenienze quindi con altre eh conoscenze e questo si vede molto molto bene perché ehm talvolta anche non è stato facile eh magari non conoscendo le biografie dietro dietro i nomi però capire da che da che parte arrivavano i i commenti e quindi eh ecco ad esempio quello di Beatrice che poi citerò su su De Carlo che citerò ancora eh insomma fa vedere come proprio la la fecondità del se vogliamo anche direi dalla parte nostra del chiedere anche aiuto a a qualcun altro per per poter interpretare meglio dei testi che sentiamo che sentivamo eh invece nostri in qualche modo quindi più vicini perché partoriti perché scritti perché concepiti eh dagli dagli architetti o o insomma da la gente di da questa parte direi della eh della barricata. Eh il libro affronta eh varie ovviamente varie tematiche e direi però che sono interessanti due grandi eh versanti che sono la prima la scrittura come una dimensione eh specialistica cioè la scrittura come una ulteriore approfondimento ehm del del mestiere o del punto di vista dell'architetto per cui sono ovviamente citati molti dei eh dei lavori con un'attenzione particolare agli anni sessanta e settanta un periodo in cui ehm la scrittura e anche la linguistica veniva eh spesso utilizzata per l'interpretazione ma anche per la produzione del progetto ovviamente Eisenman è solo uno dei tanti che eh ha iniziato appunto ha cercato di sconfinare proprio per utilizzare la la scrittura in chiave generativa quindi eh la scrittura e l'analisi della della lingua come eh come un uno sconfinamento ehm utile a giungere a ulteriori orizzonti progettuali quindi in questo caso una scrittura come strumento verso il progetto la lingua come un qualcosa che può essere eh rielaborato trasformato e utilizzato e poi tradotto infine quindi quest'opera di traduzione per arrivare anche non soltanto ma anche a un progetto eh costruito però appunto questo in una dimensione anche talvolta oscura una dimensione specialistica in una dimensione ehm comunque eh con con le sue regole con anche le sue difficoltà i suoi trucchi per arrivare a quell'obiettivo poi abbiamo eh invece da un'altra parte la scrittura come quella lingua comune che prima era citata anche da da Sergio ehm da da Giovanni in vario modo eh quindi la scrittura come un accompagnamento come una dimensione che invece deve servire per per poterla tradurre anche ad altri quindi non soltanto agli addetti ai lavori ma eh o ad addetti ai lavori però da prospettive differenti oppure anche a un vasto pubblico e quindi ci sono queste due almeno questi due grandi ehm come dire parti ehm o tipologie proprio anche generi se vogliamo della della lingua che vengono utilizzati eh all'interno del progetto di architettura e credo che questo emerga diciamo che ci sono molti approfondimenti ehm interessanti su entrambi i fronti o almeno che aprono delle delle prospettive su entrambi i fronti dal per esempio ho apprezzato il testo di Riccardo Palma sul sul testo di programma come Giano Bifront appunto come come momento di interfaccia di condivisione proprio nel testo del programma che deve in qualche modo spiegare spiegarsi definire prima per un committente ad esempio e poi per l'architetto come terreno ehm comune terreno ehm condiviso sul quale tutte e due verso il quale tutte e due si devono affacciare e quindi poi eh dare eh uno delle domande e l'altro delle risposte o ulteriori domande eh oppure anche molto interessante eh veniva citato prima il il saggio sulla nota nello spazio scritto dell'architettura tra l'altro questo in maniera un po' eh come dire volevo citare come nel testo di Marco Biffi ci sono anche delle pagine che graficamente sono eh molto interessanti perché eh proprio dal punto di vista delle note dove la nota diventa preponderante graficamente nella pagina e raccoglie non so quante decine di righe lasciando al testo principale una sola una sola eh linea e questo però appunto fa anche vedere eh come dire denota anche eh la profondità di riflessioni di riferimenti bibliografici che ci sono all'interno ehm di questo volume e poi molti altri insomma molte altre ehm prospettive interessanti quello che vorrei però sottolineare eh oltre a però è già stata fatta un'ottima eh come dire visione generale eh carrellata su sul contenuto di questo libro è il tema direi dell'educazione che eh viene fuori quasi della eh pedagogia legata a a alla alle righe dell'architettura insomma alla lingua dell'architettura quello che quindi sono delle domande assolutamente aperte delle riflessioni trovandoci in una sede eh universitaria su come cosa ci dicono queste riflessioni o cosa ci dovrebbero dire cosa ci dovrebbero spingere anche a fare rispetto al all'educazione dell'architetto degli architetti futuri ehm e qui prendo spunto dal dall'inizio del del saggio di Sergio Pace che cita Francesco Milizia e dice l'architetto è spesso obbligato ad esporre i suoi progetti e come esporli senza un previo studio di belle lettere? Allora questa è una domanda importante in qualche modo che eh ci ci richiede insomma a chi a chi insegna ma poi a chi non 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 smette eh mai di di imparare di studiare insomma come eh come deve essere introdotta in qualche modo la un punto di vista sulla lingua all'interno di una facoltà di architettura all'interno del dell'insegnamento dell'architettura appunto qui vediamo tanti buoni esempi super specialistici quindi un'analisi eh delle del della nota all'interno di un testo dei testi di architettura e altri tipi di eh di punti di vista. Eh ancora Roberto Secchi nel suo saggio dice la lingua propria degli architetti e il disegno eppure gli architetti scrivono è vero hanno questa questa ossessione anche questa mania questo questo vizio. Eh allora appunto eh ci si può chiedere se oggi si insegna a scrivere nelle nelle scuole di architettura. Io non voglio dire nulla su su questo luogo perché sono qui da pochi da pochi mesi e quindi non posso sbilanciarmi. In altre università non si insegna assolutamente nulla a riguardo e quindi c'è in qualche modo un un una mancanza di una vera riflessione sulla lingua e sulla scrittura e sulla lettura direi anche all'interno di eh di scuole eh come dire di luoghi invece dove la scrittura è molto usata poi in effetti o comunque la la scrittura è molto richiesta all'interno della professione dell'architetto qualunque poi sia il suo sbocco qualunque sia la sua eh declinazione. Mi è venuta però allo stesso tempo un'altra domanda ovvero se oggi si insegna a disegnare eh questa potrebbe sembrare provocatoria però non credo neanche che sia una domanda banalissima perché ehm ripeto anche la l'insegnamento del disegno è qualcosa di in realtà oggi in un miscuglio molto interessante tra eh disegno a mano tra disegno invece eh fatto con altre tecniche e altri strumenti sicuramente anche quella è una un discorso in qualche modo linguistico di stile di testi di comandi eh di programmazione che si si collega a e forse anzi viene trattato ecco nell'ultimo saggio del del libro eh di Balsanna e Tommaso Listo che dove si intravede questo ho apprezzato molto anche diciamo è un'ottima conclusione si intravedono degli ulteriori eh orizzonti della della riflessione tra le righe dell'architettura o tra i tasti dell'architettura oggi eh tra i pulsanti dell'architettura dove il discorso forse va anche oltre e e lì si collega agli a come dire all'archeologia del digitale come si dici come si è detto in una ricerca molto interessante fatta qualche anno fa in in Canada e non solo però come eh anche la lingua dell'architettura e anche il disegno dell'architettura sia negli ultimi decenni molto mutato e quindi oggi come si insegna a disegnare oltre che a scrivere qual è il rapporto con i nuovi strumenti tra queste due tra queste due realtà ehm e quindi quali sono anche i modelli per la scrittura qui potremmo continuare con tante altre domande quali sono quali dovrebbero essere i modelli per la scrittura per gli studenti di architettura per esempio quali quali sono oggi dei buoni eh case study delle buone pratiche ecco dei buoni eh esempi eh che siano ehm anche diciamo aggiornati rispetto alle modalità di comunicazione eh odierne dalla comunicazione quindi ovviamente penso al al tema adesso non soltanto dei social che poi sembra in maniera un po' monotona come dire come capro espiatorio però ecco come sicuramente ci sono delle modalità proprio linguistiche di comunicazione di lunghezze proprio di di che che sono qualcosa di di recente e che però centra con il modo in cui l'architettura viene eh fatta ma più che altro viene comunicata a un pubblico che ha detti ai lavori o anche a un pubblico invece eh più generale e meno specialistico dalla comunicazione invece prendo questi dal saggio di Beatrice dalla comunicazione all'incomunicabilità mi è interessato molto eh quello che lei dice a proposito di De Carlo parlando degli scritti di De Carlo il tema eh viene citato eh il l'effetto terroristico che otterrà l'emissione di un certo tipo di eh lingua dell'architettura quindi come in un certo periodo come eh forse in diversi periodi ecco un'involuzione anche nella scrittura o una corrispondenza della della scrittura un'adesione della scrittura rispetto a eh un certo modo di scrivere e eh di pensare sia stata qui viene utilizzata l'incomunicabilità come ragione di potere e quindi un rapporto molto interessante direi che non è soltanto un vizio non è stato non è soltanto un vizio dell'architettura però quello di un'involuzione linguistica ed espressiva fatta appunto come eh ragione di potere nel senso con un effetto terroristico e quindi una quasi una legittimazione un'auto legittimazione data in questo caso non dalla comunicabilità di un testo ma come invece una incomunicabilità funzionale a eh a una come dire un abile eh innalzamento del valore in questo caso di una certa posizione o anche di un certo edificio di una certa ehm architettura ancora su questo su questo tema ecco tra comunicabilità e incomunicabilità mi viene invece verrebbe da aggiornare il discorso su come viene oggi comunicata e cosa viene richiesto se vogliamo di cosa cosa viene chiesto all'architettura di veicolare rispetto al grande pubblico rispetto al al dibattito eh contemporaneo e quindi oggi eh da da un'incomunicabilità di cui parlavamo prima forse oggi abbiamo molto spesso una comunicabilità eccessiva ovvero il tentativo anzi di ridurre attraverso la scrittura e attraverso le immagini che poi anche qui è interessante sarebbe interessante analizzare il rapporto tra eh immagine e testo però eh come l'architettura venga molto spesso ridotta nel dibattito contemporaneo a poche efficaci immagini che possono essere ovviamente quelle della sostenibilità oggi che vanno per per la maggiore ma non soltanto eh quindi dove il testo diventa insieme all'immagine un un modo per semplificare e per far passare dei messaggi molto riduttivi diciamo e che vanno che sono tutt'altro rispetto a un più costruttivo e serio dibattito sull'architettura come pratica eh civile condivisa politica anche eh del del nostro tempo quindi ecco questi sono alcuni spunti che mi sono venuti dalla lettura eh proprio del 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 libro un ulteriore forse quello ehm che c'entra anche ancora con l'educazione nel senso con una prospettiva da qui anche universitaria è sulla lingua globalizzata dell'architettura ovvero come ehm sicuramente siamo sono l'architettura si è espressa attraverso alcune lingue in particolare dal latino in avanti fino oggi al all'inglese e questo lo sentiamo eh molto bene o molto male ecco anche nelle nostre scuole dove eh questo mette come dire implica una prospettiva ulteriore di traduzione dell'architettura quindi come si ehm sposa ecco il l'utilizzo eh di una lingua franca di un esperanto come un certo tipo di inglese all'interno delle delle scuole di architettura e eh e però un un terreno magari anche più più specifico e più eh più meno uniformato rispetto alle singole differenze ehm locali questo è qualcosa che si sente di altro per sintetizzare per dirlo in una maniera più semplice che si sente molto il ricorso a delle espressioni dei termini che di che in qualche modo eh diventano degli stereotipi linguistici mi viene in mente l'altro giorno una tesi di laurea si sentivano molte cose su foreste e e e simili ottimi tra l'altro lavori eh di di tesi di laurea però dove alcune espressioni linguistiche prese dall'inglese vengono spesso eh diventano spesso quasi degli slogan eh anche progettuali non soltanto linguistici ma poi si traducono in una serie di eh categorie che in questo momento in questo periodo sono un grande eh diciamo di grande eh diffusione e eh però ci si si può chiedere come dire se questo questo tipo di eh semplificazione terminologica non corrisponda a una semplificazione invece progettuale anche del della sostanza stessa eh del progetto. Ecco questi sono pensieri eh sparsi un po' sul sul che mi ha fatto venire in mente il libro in questo tentativo anche di 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 leggerlo eh da un punto di vista attuale quindi anche tutto questo discorso storico quindi gli oggetti che sono stati analizzati in maniera molto attenta però cosa ci possono anche dire eh su come oggi viene usata la 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 lingua lo stile come vengono usati la lingua lo stile e il testo all'interno dell'architettura oggi anche in base a una prospettiva diciamo sia di dibattito pubblico da un lato dibattito pubblico da un lato e sia da un punto di vista pedagogico verso quelle persone che si stanno formando in questo mestiere. Grazie. Grazie. Grazie a Gabriele grazie a Beatrice per queste belle letture che aprono ancora eh ancora nuovi 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 spunti. Devo dire mi ha molto colpito perché la vivo eh non quotidianamente ma settimanalmente visto che i corsi sono una volta alla settimana ormai eh la la questione legata al alla eh la didattica. Mh io non so se 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 ho dei dati falsati dagli studenti che mentono non non ho la più palida idea ma da un anno e mezzo due anni non sapendo bene come articolare queste quattro ore e mezza che ci fanno fare di storia faccio fare degli esercizi di scrittura agli studenti. Prima ho provato eh con degli esercizi di scrittura descrittiva descrittiva dell'architettura è stato un fallimento epocale che proprio mi ha mi ha distrutto qualsiasi eh fiducia nell'umanità eh adesso faccio fare un po' come quando nella alla maturità si passò dai temi ai riassunti che insomma sembrava una roba più affrontabile eh faccio fare ehm faccio leggere in un'ora e mezza devono leggere una quindicina di pagine dieci quindici pagine e sostanzialmente riassumerla io a loro gliela metto più colta però sostanzialmente quella è la vera difficoltà non è tanto è anche quella naturalmente leggere cosa hanno scritto e come l'hanno scritto che è una una specie di montagna russa ma è e lo dicevi tu giustissimamente ma è constatare che dieci quindici pagine in un'ora e mezza comprensiva di una paginetta qualsiasi non ci arrivano semplicemente la maggior parte di loro riassumono le prime cinque quattro cinque pagine ovviamente mancando tutto il senso perché poi non ne parliamo se uno gli dice scusate provate a fare una lettura veloce è vero che c'è sempre l'incubo di di Woody Allen che dice parla della Russia guerra e pace parla della Russia però provate a fare una lettura veloce eh del del testo poi magari approfondite alcuni ma non c'è proprio verso per cui direi i ragazzi davanti al mio smarrimento mi dicono questo è praticamente l'unico corso eh dove noi scriviamo qualcosa quando arriviamo alle tesi laurea è il primo momento in cui alcuni di noi scrive che mi sembra una roba stupefacente per la verità perché appunto poi anche soltanto fossero mail o fossero relazioni di progetto poi qualcuno deve dovrà pure scriverle insomma questo dal punto di vista didattica che molto mi colpisce nel vivo perché davvero è un argomento che non saprei bene come affrontare e ben venga se 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 l'interazione con gli amici che si occupano di linguistica possa portare ad altri ulteriori suggerimenti eh ehm eh è un un tema scottantissimo che eh in qualche modo si intreccia poi però anche a un altro tema era sollevato proprio in ultimo da 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 Gabriele eh io prima ho detto che questo questo libro ha degli oggetti storici molto chiari molto evidenti no tutto quasi tutti i saggi praticamente tutti i saggi forse gli ultimi due forse l'ultimo diciamo così è più di riflessione teorica che non che non ancorato a un oggetto di studio eh per chi non avesse presente l'indice del libro vi faccio presente che l'ultimo autore a essere considerato è Aldo Rossi in ordine cronologico Aldo Rossi ma non mi ricordo bene quando si è morto però era un signore del trenta due trenta quant'era trentatré trentuno vabbè insomma inizio degli anni trenta dopodiché per carità in questa stessa stanza abbiamo architetti che scrivono oggettivamente ce 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 ne abbiamo ce ne sono eh sono però dei testi come dire incomparabili a quelli che uno si potrebbe aspettare di ricevere dagli architetti pensate a gli editoriali ma dico banalità pensate agli editoriali di Rogers su Casabella pensate alle presentazioni appunto di Aldo Rossi e compagni dei propri progetti pensate a quello che scriveva Andrea Branzi sul design anche argomenti che non mi interessa niente però però insomma pensate a quelle a quelle cose qui ma esattamente gli studenti nostri che cosa dovrebbero leggere ecco non faccio i complimenti soltanto perché un amico potrebbero leggere certo quello che scrive Gabriele quello che scrive Fulvio Raci sul sole ventiquattro ore quello già è un è un come dire stiamo volando altissimo e voliamo effettivamente altissimo perché altrimenti non so le riviste prima di tutto la domanda potrebbe essere voi le leggete davvero davvero leggete riviste di architettura punto primo seconda cosa cosa leggete esattamente sulle riviste di architettura davvero leggete quello che gli architetti scrivono sulle riviste di architettura riviste per riviste di architettura intendo quelle con un sacco di figure e un paio di colonnine di spiegazione del progetto direi che io personalmente ho sospeso questa attività molto tempo fa perché preferisco vivere e e ma direi che nessun nostro studente si esercita su queste le riviste che abbiamo in biblioteca sono rigidamente intonse a meno che non pubblichino naturalmente dettagli in scala uno a uno di infissi termo resistenti a qualsiasi eh funzione eh di di isolamento perché veramente altrimenti secondo me corriamo il rischio poi di parlare come dire a strapiombo sul nulla perché ci affacciamo da questa terrazza meravigliosa fiorita di Aldo Rossi che scrive addirittura autobiografia pura poesia eh per poi constatare che gli ultimi che hanno scritto sono nati agli anni trenta per cui sono per lo più morti o insomma sono anzianotti eh cominciamola così eh eh e questo è molto 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 preoccupante questo libro ci induce a riflettere sempre di più sia eh dal punto di saliera didattica cioè al gradino iniziale della formazione sia verso i gradini finali non voglio però fare altri commenti che mi sono dettati soltanto dall'interesse delle cose dette non so se c'è qualcuno eh qui o da remoto però non vedo chi ve lo posso segnare da remoto però insomma ehm qualcuno che vuole intervenire nella nella discussione che mi pare abbastanza vivace se c'è qualche intervento possiamo il tempo c'era un maxi microfono qua ma si può avvicinare qua il parla qualcuno vuole aggiungere mai non c'è il maxi microfono sì devi venire perché sennò non ti sentono eh a casa se ci fossero adesso ma eh soprattutto non ti sentono nella registrazione sì un microfono con senso ma eccolo c'era anche il microfono vabbè vabbè mi sei seduta ormai sono fatta fatto grazie in realtà avevo due considerazioni barra domande ma che in buona parte sono già state toccate dagli interventi precedenti quindi le riporto magari per renderle ancora più esplicite in alcuni punti ehm una prima questione vabbè faccio una breve introduzione a questa questione mi sembrava interessante come eh nel nel libro e nella presentazione del libro soprattutto nell'introduzione in tutti i testi scritti venga sottolineato più volte come l'obiettivo fosse non tanto un obiettivo operativo ma quello di iniziare a definire un perimetro di questo possibile spazio d'incontro eh tra le discipline ma come anche allo stesso tempo invece appena il libro è arrivato alla conclusione quindi ha iniziato ad esistere come oggetto ha prodotto in realtà delle domande molto operative che sono quelle che sono venute fuori anche in questo in questa occasione quindi sia dal punto di vista della ricerca quindi quali sono i prossimi passi quello che si può innescare da qua in poi dal punto di vista delle possibili linee di ricerca sia dal punto di vista dell'azione soprattutto negli interventi di Giovanni Alessandro quindi l'utilità di proseguire in questo incontro dal punto di vista dell'azione soprattutto degli architetti ma immagino anche dei dei linguisti eh quello che però appunto è già in parte venuto fuori e che forse è una delle questioni su cui può valerla per interrogarsi e eh diciamo quanto riconoscimento ci sia di questo possibile terreno fertile per andare avanti nella direzione di approfondire ulteriormente l'incontro tra queste discipline cioè sia dal punto di vista della formazione come è stato detto ma anche forse dell'attività professionale mi sembra che l'utilità dell'incontro tra linguistica e architettura non sia sempre ehm riconosciuta a sufficienza cioè il problema di dimostrare che un'utilità c'è forse non è questo il contesto in cui serve serve sollevarlo ma invece il problema di chiedersi come mai manca un po' questo tipo di riconoscimento almeno io parlo dalla prospettiva soprattutto dell'architettura quindi del fatto che manchi nel modo in cui l'architettura viene insegnata e anche proprio forse non non c'è una consapevolezza di quanto sia importante saper scrivere nella pratica professionale e in particolar modo forse anche saper scrivere tutti quei testi che non sono che sono anche dei testi diciamo di accompagnamento ma che oggi sono diventati così importanti il testo di di accompagnamento i disegni ma anche il testo della mail con cui questi vengono trasmessi e via dicendo eh quindi questa diciamo era una prima questione e la seconda che anche è stata in parte toccata era più relativa alle geografie cioè mi sembrava interessante come un'altra delle ehm delle delle cose che il libro ha permesso di fare è stato fare una riflessione a posteriori per esempio sui tempi più o meno studiati e mi chiedevo se qualcosa di analogo si può possa fare anche sulle geografie ovviamente a partire dall'Italia eh ma anche invece facendo un passo ulteriore rispetto al discorso che ha sollevato di nuovo Gabriele come ehm come la diciamo l'inglesizzazione della lingua come questo tipo di questioni qua si possano si possano diciamo affrontare cosa è il libro come primo primo tassello ci possa dire in questo senso. Sì mi sembra domande importanti per la verità non so se se ce ne sono altre di domande poi magari chiediamo ai curatori o anche ai discapoli sì. Ok innanzitutto volevo ringraziare l'organizzatore del di questa presentazione Sergio Pace e tutti coloro che sono intervenuti e soprattutto anche i curatori che mi hanno offerto la possibilità di contribuire al libro e con un saggio condiviso con Gregorio Astengo ehm questa è più che una domanda cosa non sono a chiosa eh che segue la provocazione di di Sergio Pace sul contro il disegno no? Che riprende a sua volta un noto libro di Feyerabend penso di attacco al metodo ehm perché il disegno in libero architettura effettivamente funziona un po' come un'interfaccia tra i lettori e gli autori no? Eh l'uso del disegno e delle immagini gioca un po' eh questo ruolo di chiave di accesso al libro quindi eh sembra una questione abbastanza di rimente se osserviamo anche un po' il repentino diradarsi o diradamento dei libri dalle dagli scaffali delle librerie di architettura io lo osservo adesso sono in Germania ma quando torno in Italia noto questa cosa mi sembra abbastanza allarmante quindi la questione che mi sembra centrale e nell'interfacciarsi tra autore e lettore e quella è anche un altro tema la questione della lettura ma chi è veramente il lettore di questi saggi e non c'è nessun saggio mi pare nel libro che si confronta in maniera diretta prontale con la questione della lettura cioè chi legge queste cose può apparire effettivamente una questione un po' postmoderna l'Umberto Eco però eh secondo me è importante ehm anche perché questa cosa apra delle dimensioni che secondo me andrebbero indagate e che io eh come lettore eh ritengo molto interessante ad esempio mi piacciono mi piace l'uso che viene fatto delle immagini o delle figure come dei pistaggi ad esempio questo l'ho notato si nota bene nei libri dell'Einaudi non so penso ai saggi di Tafuri e Gabetti e Olmo quello sulle radici dell'archiviera contemporanea o anche tipo sfogliavo questa mattina il saggio di Giovanni Durbiano l'etiche dell'intenzione dove ci sono delle figure di Braiman ci sono delle c'è Don Quixote insomma e uno si aspetta di ritrovare poi queste figure nel testo mentre in realtà non le ritrova ma questa cosa è molto interessante cioè il fatto la scelta delle immagini di questi saggi è a volte potentissima cioè come 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 dire come come dispositivo ecco altre volte invece eh c'è la questa questo tema viene posto nei termini di un rebus ad esempio penso ai saggi libri di non so mi viene in mente Giovanni Galli no dove la figura ha un ha un ruolo centrale ecco questo per dire che eh insomma questa relazione tra figure tra figura disegno illustrazione mettiamola come vogliamo immagine e scrittura secondo me è molto importante poi una piccola eh nota sulla questione della scrittura e dell'educazione alla scrittura che è stata posta precedentemente io porto una testimonianza eh da un'altra università tedesca dove dove mi trovo ora in cui eh la cosa è altrettanto diciamo drammatica nel senso che noi come catara di teoria ad acquisgrana lo scorso anno abbiamo organizzato un corso di scrittura per architetti in cui in tutta l'università tutta la facoltà si sono iscritti eh otto studenti ne sono rimasti quattro metà e alla fine ha consegnato uno ma non tanto ce ne abbiamo tentato in tutti i modi di rendere questa cosa accessibile per quanto fosse ovviamente un corso in inglese però insomma la questione eh insomma si è rivelata balza fallimentare ecco come impresa per cui ecco ritorno da capo il lettore eh finché il l'autore non si confronta con veramente in modo frontale con il suo lettore rischia diciamo di eh cadere in un fallimento questa cosa è verissimo è verissimo certo certo ehm su questa cosa della lettura scrittura è una domanda proprio perché non lo so e quindi da lì poi posso partire per la mia riflessione ma nel percorso diciamo degli studi di un futuro architetto quanto si leggono i teorici dell'architettura perché è una provocazione un po' perché ehm diciamo che la scrittura è parte della lettura se io non esercizio non esercito il pensiero complesso come faccio a scrivere mh nel senso noi di lettere banalmente io sono un dottorato in linguistica in lettere in lettere moderne poi sono una linguista ma quanti teorici mi sono letta perché la mia ma la mia diciamo disciplina mi richiede questo e non solo perché poi devo scrivere perché vi assicuro che a lettere tanto quanto questo è un problema forse dell'università italiana si scrive pochissimo di tutti gli esami sono orali nessuno scrive eppure però eh diciamo che la a un certo punto la lettura ti eh plasma se mi chiedo gli studenti di architettura non leggono mai non sono mai obbligati perché a volte purtroppo bisogna obbligare per poi far diciamo iniziare un processo a leggere i teorici dell'architettura ed è difficile che poi lo strumento della scrittura cresca e troviamo maturità guarda posso posso portare io un'altra esperienza e in questo caso come come dire responsabile scientifica della biblioteca eh quando quando cominciai questo lavoro siccome non sapevo bene come esercitarlo insomma come come metterlo in pratica pensai che una cosa buona poteva essere semplicemente quella di un lavoro di pubblica utilità quella di chiedere a tutti i miei colleghi quali fossero i testi dati nelle bibliografie in maniera tale ma mica per fare una analisi scientifica per comprarceli eventualmente se fossero stati mancanti non so più copie di qualche cosa eccetera eccetera l'esperienza che si conclusi anche quella nell'orrore il naufragio completo tipo film di Hitchcock perché metà dei miei colleghi non soltanto non mi diede una bibliografia ma al sollecito disse qualche cosa del genere in termini super colpi super terroristici appunto come De Carlo che sostanzialmente non la dava la bibliografia e questo già mi lasciò sbigottiti però pensai questi sono soltanto una massa di caproni saranno questi dieci caproni tutti gli altri le bibliografie sono meravigliose perché sono un po devo dire non si è perso quel vizio io il mio primo esame lo raccontavo stamattina ai miei studenti eh il mio primo esame è stato con Franco Purini illustre architetto all'epoca professore di disegno in rilievo che per un esame di disegno in rilievo ci diede in bibliografia leggessa di Steven di ehm James Joyce e Upalino di Paul Ballery che all'epoca però non era tradotto in italiano quindi avevamo soltanto la disposizione edizione francese e e la poetica dello spazio di Gaston Bachelard e non so cos'altro direi libri a Vandera completamente a Vandera cioè metà delle bibliografie che abbiamo ricevuto comprendeva Vitruvio e io dico sempre quando sentite uno di noi che parla di Vitruvio chiedetegli ma nel libro sesto esattamente cosa dice perché nessuno di noi ha letto Vitruvio perché è il libro più noioso della terra naturalmente è leggibile completamente leggibile c'era palladio come se fosse una roba da bancarella praticamente evidentemente non si legge molto chiaro come si legge non non ci sono consigli di lettura ma neanche consigli di lettura genere appunto compianto Maurizio Costanzo insomma cioè con un genere leggete questo leggete quello dovreste leggere per forza o sono eh provocatori appunto interrogato sulle gesta di Steven vi assicuro che io in disegno in rilievo fui interrogato sulle gesta di Steven di James Joyce fu un'esperienza surreale eh oppure poco altro davvero poco altro però è questo questo è lunghissimo ma questa questa riflessione sulla pedagogia era didattica eh cade a fagiolo come si suol dire nel senso che eh caso vuole che tra l'altro ci sono altri due curatori qua con noi un altro libro di cui mi sono occupata durante questa esperienza sia proprio si intitoli praticare la teoria e parli di riflessioni sulla pedagogia della progettazione architettonica e è stato molto interessante vedere come a partire da questa cosa si si intrecciassero livelli di complessità che eh bene o male toccano un po' tutte le cose che voi avete detto ehm perché ehm alla fine diciamo l'esercizio che veniva richiesto eh perché all'interno del Politecnico ci sono diversi laboratori di teoria della progettazione e ogni laboratorio diciamo eh fa un po' riferimento a i docenti che tengono questi corsi che spesso hanno anche una visione di che cosa sia la teoria della progettazione architettonica diversa e però ehm proprio per questo eh c'erano dei paletti che ciascun docente doveva cercare di di mantenere all'interno dei propri laboratori e la cosa interessante è che uno dei paletti riguardava il fatto che ci dovesse essere un esercizio di scrittura o una riflessione comunque sul testo e eh due cose che rispetto a quello che avete appena detto innanzitutto riprendo proprio l'ultimissima tua Sergio eh le le cose che sono poi venute fuori dai saggi che sono stati scritti nel volume da i docenti che hanno tenuti i laboratori lasciano emergere la questione delle dei suggerimenti bibliografici legati a eh un insegnamento della progettazione architettonica che spesso in effetti non trovano nessun fio rouge cioè non non hanno ehm somiglianze da un laboratorio all'altro qualcosa magari però spesso ci sono delle idee completamente diverse di cosa si dovrebbe leggere per insegnare progettazione architettonica e anche diverse sono le idee rispetto all'esercizio che serve agli architetti per diciamo acquisire una certa consapevolezza su testo e scrittura il che a me ha suscitato una riflessione che poi è diventata il mio piccolo contributo esattamente su questo ovvero se si vuole far ripartire all'interno di una facoltà di architettura una riflessione sulla lingua in che cosa l'università di architettura identifica l'uditi diciamo eh ciò che è più importante per un architetto nell'utilizzo della lingua nell'utilizzo del testo cioè che cosa mi serve insegnare all'architetto eh perché gli è più utile in termini di consapevolezza metalinguistica e di scrittura devo insegnarli a scrivere diciamo a leggere preventivamente per l'elaborazione del pensiero critico teorico o devo insegnarli a scrivere la relazione di progetto o tutte e due e come interagiscono le due cose perché questo poi ha un ruolo molto importante su non solo come si costruisce la teoria del progetto ma anche come come dire l'eredità di della teoria dell'architettura della teoria del progetto viene mediata rispetto alle scelte che i docenti fanno in questo senso e che effettivamente anche all'interno dello stesso delle stesse mura sono molto diverse e e comunque effettivamente risponde per rispondere a quello che diceva Caterina eh in qualche modo questo paletto forse provava a riconoscere l'importanza del fatto di eh riportare a una consapevolezza dell'uso della lingua dell'uso della scrittura eh per il progetto di architettura e e mi sembra una cosa che poi anche nella sì appunto nella scelta che hanno fatto i docenti nell'esercitazione è stato forse l'unico che era sempre effettivamente presente in modo in modo costante rispetto al discorso delle geografie eh e all'uso dell'inglese un'altra questione che mi sembra molto interessante anche se nel libro non c'è affatto ma ehm mi sono trovata più volte a discutere di questa cosa perché eh è evidente che siamo in una dimensione in cui ci serve una lingua per comunicare universalmente questa lingua è in modo riconosciuto diciamo l'inglese però penso che sia anche interessante chiederci quanto questo fatto il fatto di non scrivere più nella propria lingua madre poi sottragga la capacità di creare dei testi teorici che rimangono e che costruiscono non sapere proprio perché c'è un uso eh consapevole della lingua che che viene messo in pratica e ultime due cose come ulteriori punti di discussione visto che questa curatella ha un po' preso i primi due anni di questo dottorato quindi è cominciata quando c'era anche una diversa consapevolezza e poi restando qui dentro eh no no testimoniato proprio di diverse cose che venivano fuori eh e di e che intrecciano quello che voi avete fatto emergere da dal libro e dalle vostre letture oltre diciamo alle cose che anche a noi abbiamo sintetizzato eh il fatto che eh di domandarsi come viene comunicata l'architettura e questo ad esempio l'ho visto chiedere molto in un corso che parlava del rapporto tra architettura e opinione pubblica per cui come viene come com'è che la critica dell'architettura se esiste ancora una critica se esiste un'architettura insomma in modo riconoscibile ehm come viene gestita dal punto di vista linguistico cioè come si fa a trasmettere l'architettura a un grande pubblico mantenendo allo stesso tempo la sua specialità anche dal punto di vista lessicale e quanto questo gioca un ruolo poi nel fatto che si possa parlare di critica o di teoria per esempio c'è anche queste classificazioni no queste etichette che si danno in che cosa in cosa la lingua aiuta a definire i confini di queste etichette teoria storia critica dell'architettura e poi un'ultima cosa che volevo dire è che rispetto alla alla possibilità di mettere appunto di come mettere in comunicazione queste due questi due saperi e sul fatto che effettivamente questo libro mette propone tante possibilità che forse non sono tutte ugualmente declinabili nello stesso modo in termini intero transdisciplinare forse ci sono alcune come dire tagli che si prestano di più ed altri che si prestano di meno e proprio in questo che è stato il mio più grande crucio fino ad ora è fondamentale capire direbbe raffaella quali testi sono parlanti davvero e lì come sempre direbbe raffaella c'è la venatura del cristallo e lì si riesce a raggiungere il dialogo indidisciplinare e forse lo capiamo perché vediamo che a partire da un piccolo oggetto che è quello della riflessione si sommano livelli di complessità sempre più ampi Gabriele scappa grazie Gabriele scappa pianissimo doppicando sì io credo che siano davvero non so se ci sono altri interventi credo che anche queste di di costanza siano delle riflessioni necessarie indispensabili e io ho soltanto come dire sarà questo 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 pessimismo sulle questioni della scrittura nella nostra scuola che che un po' mi induce a dire questo eh io semplicemente però non radurrei immediatamente tutto quello che si scrive o che si legge in discorso teorico perché appunto non soltanto ci sono tanti altri registri ed è giustissimo le relazioni di progetto le maile ma attenzione questo lo dico credo che gli architetti tra noi lo sappiano benissimo ma forse eh quelle che non non hanno sperimentato la scuola di architettura se ne stupirebbero molto eh c'è un problema ancora più ancora di grado inferiore che è quello della descrizione eh naturalmente fare prove di descrizione eh è ovviamente noiosissimo eh eh è terribile però guardate che se eh un direi il settanta per cento dei nostri studenti anche delle lauree magistrali e non dico di dottorato solo per rispetto di tutti quanti in questa sala venissero messi dentro questa sala che di architettura poi in fondo ha poco perché tutto tutto dipinto non ci sta anche di architettura e gli si dicesse bene comincia descrivila fai capire al telefono a qualcuno che non è qui come è fatta sta sala ah guardate si ottengono i risultati più bislacchi da gente che parte dalle porte gente che parte dal soffitto cose surreali che non farebbero descrivendo la propria fidanzata o il proprio fidanzato e e un po' perché l'architettura è difficile da descrivere oggettivamente è difficile da descrivere un po' perché ripeto non 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 si è abituati non non lo so non non si è abituati e questo è un livello ancora inferiore rispetto a ma io poi tutte queste descrizioni fanno una critica che fanno una teoria come giustamente diceva eh Costanza eh è proprio il il grado inferiore mh Carlo Olmo nelle sue molteplici crudeltà esercitate nel corso di tanti anni di carriera didattica eh forse voi due ve lo ricordate aveva una curiosissima ehm tentazione agli esami cioè quella di far vedere una fotografia di Villa Savoie cioè di una delle robe più famose che abbiamo davanti agli occhi tutti qua dall'altro lato letteralmente cioè dal retro vista un po' sbilenca non so dove si fosse procurata sta fotografia completamente fuori 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 sincrono fuori fuoco eh metà di loro non la non la riconosceva metà degli spettacoli tra i quarti degli studenti non riconosceva la stessa Villa Savoie di cui stava parlando ovviamente e io credo che questo potreste dire è un esercizio iconografico no è anche quello un esercizio di descrizione perché vuol dire che nella loro testa il linguaggio è talmente povero da aver elaborato per Villa Savoie una descrizione minuscolissima che fa riferimento a quell'immagine del tutto bidirezionale di una fotografia vista sul libro di Frempton ma non hanno mai poi hanno magari letto anche come è fatta la Villa Savoie ma non riescono a restituirla tanto che non riescono a riconoscerla esattamente come se non riconoscessero il proprio fidanzato la propria fidanzata per strada che è molto strano e anche molto preoccupante per cui io devo dire se c'è un uno solo tra i mille eh tre mille auspici che sono venuti fuori dalla lettura di dalla scrittura e dalla lettura di questo di questo volume c'è davvero che per carità non voglio tradurre tutto quanto in corsi seminari crediti lungi da me siamo già pieni e i nostri studenti fanno già eh uno uno slalom eh veramente professionalizzato neanche professionalizzante tra un in un'offerta formativa che sono delle gabbie che sono delle gabbie spaventose io su trenta esami ma credo anche voi su trenta esami avevo se no dieci esami obbligatori ma se no tutti gli altri erano a mia scelta e ho scelto le cose più folli della terra ovviamente questi già fanno per cui non mettiamo gli altri scelte dure però certo però certo una riflessione su lettura e scrittura dei testi va va portata avanti ripeto non soltanto di altissimo livello non soltanto di livello straordinario come quello proposto dai saggi in questo volume tra Vitruvio e Sansovino o anche Aldorossi o o De Carlo per carità ma anche di di livello infinito era Caterina prima che diceva come si scrive una mail di accompagnamento eh a un progetto vogliamo parlare delle mail che riceviamo? Eh come dire è una cosa ma non oso immaginare quelle che accompagnano i progetti perché quelle che accompagnano i progetti potrebbero persino essere destinate a dei destinatari neutri in qualche modo ma vogliamo parlare delle mail che riceviamo in quanto professori in quanto loro docenti una cosa assolutamente eh delirante e questo credo che sia veramente tanto tanto lavoro da fare hai ragione che credo che anche in altri tipi di scuole questa accada questo questo è verissimo cioè non sono sicurissimo che a giurisprudenza per esempio si scriva tanto e devo dire qualche indizio ci viene da come sono scritte male le leggi perché poi in fondo qualcuno gli scriverà le leggi no e direi che al di là proprio degli errori di sintassi e di morfologia non c'è grande pratica della scrittura dietro molte 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 leggi eh però insomma occupiamoci del dentro casa nostra certamente è drammatico l'idea che li facciamo esercitare su delle tesi dove devono arrivare fortunatamente per loro con dei dei fascicoli sempre più ridotti all'osso scritti in corpo centoquindici per cui insomma raggiungono le venti pagine facilmente con due cartelle insomma eh però anche quelle due cartelle sono sono un'esperienza da brillo posso fare un commento su questa prima cosa e poi su quello che ha detto Costanza poi appunto ehm allora secondo me il tema del anche le mail che arrivano sono diciamo eh terribili terrificanti in realtà è un discorso molto più ampio cioè è ovvio è ormai tangibile lo vedo lo vedono tutti anche non gli addetti ai lavori che siamo di fronte un impoverimento linguistico evidente ma il problema è che l'impoverimento linguistico deriva da un impoverimento di struttura stratta cioè proprio di esercizio del pensiero e in questo io non penso che l'università debba tirarsi indietro e guardare perché comunque una grande causa fatemelo dire ce l'abbiamo ce l'ha ce l'ha all'università che ha semplificato sempre di più i corsi semplificato sempre di più e ai corsi di laurea sì quelle quell'esame non lo puoi dare non puoi mettere quel libro gli è stato detto ad a Raffaella ricordo benissimo un testo sulla metrica di fragmenta che era un tomone corso così gli era stato concesso un anno perché poi era troppo difficile ecco se allora però si continua a dar sempre cose facili facili a un certo a un certo punto il risultato che le persone non riescono a pensare e di conseguenza non riescono eh non riescono poi a scrivere questo per anche un po' evitare secondo me ragionamenti un po' appunto da da d'accademia no per cui i processi si vedono ma in realtà ne abbiamo una una responsabilità molto grande e secondo me è arrivato poi a un certo punto il momento di chiedersi che cosa stiamo a esistere se invece diventiamo invece complici di questo processo di impoverimento e questo è un tema secondo me invece l'altra un'altra questione che volevo diciamo ehm eh su cui volevo con concentrarmi un attimo in risposta anche a costanza su quali sono i veramente i testi parlanti io da parte dalla 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 mia prospettiva eh ritengo che sia soprattutto eh cioè che la linguistica possa essere eh utile eh nel rapporto diciamo interdisciplinare con l'architettura soprattutto per permettere di far parlare il testo cioè proprio di arrivare a dei livelli di interpretazione che eh si concentrano sulla forma non sul contenuto perché quello che diceva giustamente anche Giovanni all'inizio non è che gli architetti non leggono i testi non li comprendono ma sarebbe un'arroganza incredibile affermarlo da parte dei linguisti però ovviamente l'attenzione è spesso sul contenuto su ciò che è in veicola su ciò che deve eh comunicare a chi lo comunica in quale contesto la quello che può fare la linguistica è proprio invece portare l'attenzione sulla forma cioè su quali strutture linguistiche vengono scelte per quali strutture linguistiche vengono scelte per comunicare un determinato aspetto e non per forza l'aspetto teorico ma anche quello banalmente eh penso appunto De Carlo cioè De Carlo in questo è magistrale perché utilizza dei linguaggi in alcuni suoi saggi che sono molto facilmente comprensibili perché l'obiettivo era quello di essere il più possibile accessibile ecco il fatto di identificare in alcune scelte linguistiche la chiave di interpretazione di alcuni processi architettonici secondo me può essere eh insomma una chiave di 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 volte di svolta eh in questo rapporto volevo aggiungere solo una cosa velocissima eh che un po' entra in dialogo in realtà con il primo intervento di Beatrice che ha fatto adesso anche un po' per spezzare una lancia fuori degli studenti di architettura che non sanno scrivere proprio come come esperienza pragmatica soprattutto legata forse all'attività degli atelier di progetto eh una cosa che tra di noi penso sia risaputa secondo me sia assistito proprio ad un'esplosione delle conoscenze competenze che sono richieste agli architetti informazione nel senso che mh un po' per un'idea forse che si fanno loro un po' perché poi ricevono tanti punti di vista diversi però per riuscire allo stesso tempo a imparare a usare banalmente dei programmi a sviluppare dei progetti a fare tutta una serie di aggiornarsi costantemente su tutte queste altre cose c'è proprio loro dedicano io credo comunque una quantità di tempo a tutta una serie di mh all'apprendimento di tutte queste cose molto molto grande che a un certo punto secondo me rischia di esplodere cioè non possono imparare tutto quindi c'è proprio da fare una riflessione più di che cosa qual è la priorità se si vuole dare la priorità ad insegnare a pensare che quindi è una cosa molto più di base oppure a diciamo insegnargli ad usare degli strumenti che magari possono spendere immediatamente al giorno uno in cui sono usciti dall'università in certi campi perché sicuramente è anche legato al fatto che il lavoro che poi gli architetti si trovano a fare è diventato estremamente diversificato e quindi proprio per tenere un piede in tutte le possibilità che potrebbero avere dopo forse si cerca di insegnargli tutto e a volte è troppo cioè non è semplicemente gestibile e non hanno proprio il tempo secondo me di leggere come come dovrebbero avere allora bisognerebbe fare una scuola di architettura che dura sei anni anziché cinque magari lo dico da sorella io ho una sorella che studia architettura che fa una vita accia quindi questi commenti beatrice bellissimi perché mi sono preso un sacco di appunti però almeno una cosa volevo dirla cioè proprio rispetto alle cose che stavate dicendo adesso perché io soffro sempre un po' quanto quando mi mi sento d'accordo con i discorsi di come dire di di apocalisse di declino per cui ho anche delle reazioni anche perché sei più giovani discorsi no no ma perché poi le faccio anch'io però vorrei non farle allora questa cosa del del saper leggere scrivere e parlare perché poi appunto questo mi sembra che venga fuori o del poter insegnare a leggere scrivere parlare mentre si disegna mentre si progetta mentre si impara a usare autocad o revit o quello che mi sembra che sia un problema che nessuno riesce a gestire nessuno riesce a risolvere ma non sono in italia anche le scuole anglosassoni per esempio manchester hanno diviso l'università dell'architettura in due una per quelli che devono imparare a leggere scrivere e uno per quelli che devono imparare a usare revit praticamente c'è una per una pratica professionale un'altra per una formazione intellettuale allora a me sembra che il capitale linguistico non so se ci sta come come analogia con le categorie di bourdieu attraversa i percorsi formativi universitari e viene determinato da un'altra parte da altre parti questo è il punto perché se addirittura tu dici che anche a lettera non si non si riesce a insegnare a scrivere vuol dire che magari ovviamente in misura diversa sono certo di questo però evidentemente l'università non riesce a fare questa cosa riesce a solvere a questo compito se non a livelli altissimi mi ricordo quando janeva era venuta qua a fare i suoi corsi di dottorato faceva fare gli esercizi di scrittura gli studenti scrive dei testi in dieci righe che sembrava una cosa delle elementari invece no perché era altamente codificato tra l'altro un insegnamento della della lingua in inglese a degli italiani perfettamente controllato da una professoressa bulgara che ha fatto il voto a parigi insegna in inghilterra per cui c'è una potenza della lingua e della delle scienze della lingua che non è legata a una specifica lingua anche quindi da questo punto di vista io lo dico da non linguista però è molto interessante si può insegnare a scrivere si può insegnare a scrivere come si insegna a progettare non progettare in italiano in inglese questo è un tema di nuovo diciamo trans disciplinare no allora il lo scopo di uno sforzo come quello o meglio di cui il libro è solo una premessa è provare a vedere se invece c'è una possibilità di mettere insieme diciamo una prospettiva non solo di formazione ma di ricerca perché poi appunto è rivolta agli studenti ma rivolta ai professionisti o a quelli che devono fare gli architetti da in questa almeno se stiamo qua a parlare di in cui la consapevolezza citata da costanza su cui abbiamo discusso tante volte cos'è questa consapevolezza e l'efficacia evocata da caterina non sono in competizione tra loro per cui c'è la consapevolezza diciamo spirituale o ermeneutica come noi quasi caricature in modo caricaturale dicevamo nell'introduzione e la invece la la l'efficacia è appunto performance tecnica per cui o impari diventi uno smanettone come si dice con i programmi oppure diventi un intellettuale non puoi fare tutte e due le cose di scegli ma questa dicotomia secondo me è falsa nel senso che si è o perlomeno è artificiale ecco possiamo percorrere altre strade in diagonale questa è la domanda cui forse questo tipo di sforzi possono possono condurre cioè possiamo costruire delle alleanze diverse in cui non siamo costretti a rispettare questa opposizione soprattutto in una scuola come questa questa mi sembrerebbe la sfida più alta che però vuol dire anche metterci in discussione radicalmente ed è l'unica sfida possibile finché l'università rimane questa però non è una strada che ha risolto il problema neanche aumentando i capitali non stiamo pensando di intraprenderla peraltro per fortuna per fortuna per fortuna certo mi è piaciuto molto mi sono sentito solidale quando Beatrice ha detto l'impoverimento è dovuto anche al fatto che la lettura serve a acquisire delle strutture astratte per cui poi che poi applico in tanti ambiti però è anche vero che l'apprendimento delle strutture astratte non passa solo attraverso la lettura ma anche e qui mi collega quello che dice Alessandro attraverso l'apprendimento di un programma nel BIM cioè nella modellazione interoperabile che è il programma che viene richiesto a qualsiasi studente nel laureato per entrare in uno studio c'è un'esplicita ontologia che può essere discussa che può essere smontata e rimontata per cui il problema non è solo imparare a prendere strutture astratte ma mettersi nella condizione di montare e smontare le strutture astratte che acquisisco nella lettura come che acquisisco imparando un programma, un software questo è diciamo l'obiettivo che ci si potrebbe porre insegnando contemporaneamente la lingua e il software questo dovrebbe essere il modo con cui perché normalmente vengono viste come due alternative vuoi un pensiero critico? Hai la lettura vuoi una capacità performante? Hai il software mi sembra che riconoscere che nel software c'è una struttura astratta semplicemente che è opaca ma che può essere richiede un lavoro complicato però può essere esplicitata sì sì non so se il linguaggio del software e il linguaggio Tupur possono essere messi sullo stesso piano perché mentre il linguaggio Tupur Tupur è anche quello che io utilizzo per andare a comprare i pesci dal pesci vendolo il linguaggio del software lo utilizzo solo per il software e quindi no questo sicuramente no no questo è chiarissimo no no questo è chiarissimo no questo è chiarissimo grazie è vero vai dai è quella in cui secondo me di meno serve una figura che trasmetta qualcosa cioè la parte in cui devo capire dove si trova il pulsante per fare qualcosa è quella in cui è più facile essere autonomi e invece secondo me si dedica troppo tempo a queste cose qua che uno può imparare quando gli serve quando come gli serve invece trasmettere qualcosa sulla logica del software è già tutta un'altra cosa cioè a me piacerebbe vuol dire un linguista o un filosofo ontologo spiegare come funziona il BIM cioè i software con cui si progetta che hanno dei dispositivi tutti impliciti tutti apparentemente performativi ma che sono invece il prodotto di una stratificazione di scelte hanno aspetti molto valoriali all'interno dati come naturalizzati c'è ancora una situazione? sì aspetta aspetta bravo dicevo le cose io anche io non provengo dalla scuola di architettura da lingue mi sono sempre occupato di lingue in particolare di lingua cinese forse una domanda a priori potrebbe essere innanzitutto una divisione tra la lingua dell'architettura e la lingua degli architetti questa potrebbe essere una come dire un langhe parole forse un un'analisi a priori rispetto a una lingua che gli architetti devono usare e che usano bene o male è una lingua dell'architettura codificata dalla teoria eccetera eccetera che forse forse viaggia a un livello diverso rispetto alla lingua degli architetti primo secondo in tutte in tutti i dipartimenti anche quelli forse che dovrei che che idealmente sono più vicini alla lettura e alla scrittura c'è un impoverimento clamoroso clamoroso cioè qua arriviamo proprio a non sapere a lingue cos'è un soggetto un oggetto allora forse un bagno più nella in una in un'impostazione pratico o addirittura di pragmatica proprio semplice no cosa dobbiamo comunicare con chi dobbiamo comunicare perché dobbiamo comunicare cioè domande che forse non sono così banali oggi in una scuola di architettura perché naturalmente se il progetto è fine a se stesso va benissimo impariamo usiamo software cose di cui veramente io non conosco nulla né mi permetto di di dare giudizi tuttavia se poi questo questo progetto deve essere comunicato a qualcuno o gli architetti devono anche comunicare tra di loro io non so se esiste se la lingua comune degli architetti sia così questa coinè esista esista veramente non dico tra diciamo architetti di culture diverse io mi occupo di Cina come come il professor sa io andrò nella mia ricerca a trattare proprio la lingua dell'architettura in Cina no? però rimanendo in ambito anche molto più vicino al nostro gli architetti quando si parlano si capiscono questo secondo me cioè forse partire da domande più semplici creerebbe forse dei risultati delle analisi forse un pochino più pratiche un pochino più non dico utili ma comunque cioè analizzando quindi più la lingua degli architetti rispetto alla lingua dell'architettura credo che faccia tornare all'osservazione che aveva detto che aveva fatto prima Andrea sul lettore perché effettivamente poi per carità non si poteva assaurire tutto in queste in queste pagine però certamente la questione del a chi si sta parlando a chi si sta scrivendo mi pare che sia fondamentale non so se direi che è stato un dibattito animatissimo non eravamo molti ma è stato un dibattito fertilissimo che sicuramente sarà come dire il volano di tante altre iniziative di tanti altri pensieri grazie mille grazie buona serata grazie mille 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 grazie mille